Qui vi presentiamo le 5 migliori portaombrelli. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Melikoni 190.000 Ba. Estremamente semplice da assemblare, è impreziosito dall'immagine di un'antica mappa geografica. Risulta essere leggero considerando 1,4 kg ma ben bilanciato oltre che stabile, anche se gli ombrelli sono posizionati su un solo lato. Ha un fondo staccabile per sbarazzarsi dell'accumulo di acqua e anche aiutare con le operazioni di pulizia. Viene fornito a un costo particolarmente utile e misura 27 x 27 x 50,5 cm. Passando al numero 4. Song Mix portaombrelli in metallo, portaombrelli rotondo. La sua particolare struttura è in metallo traforato, che intreccia un elegante stile floreale. In questo l'umidità non rimane all'interno e anche gli ombrelli si asciugano più rapidamente. La finitura della polvere è un'efficiente difesa contro il deterioramento. Consisteva in un vassoio a pioggia di plastica e anche due ganci per appendere gli ombrelli peghevoli. La sua lunghezza e larghezza sono di 19,5 cm e l'altezza è di 49 cm. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Yagoo portaombrelli e portaombrelli in acciaio verniciato a polvere. La sua struttura è realizzata in robusto acciaio verniciato a polvere, garantendo una lunga durata. Rimane in un'elegante tonalità bianco barra nero barra argento, una scelta visiva che ne predilige l'inserimento in qualsiasi tipo di atmosfera. La base in plastica ha una caratteristica di gocciolamento, permettendo così di evitare di aggravare le pozze d'acqua sul pavimento. Le sue dimensioni sono 51 x 21,5 x 21,5 cm e il peso è di circa 1 kg. Almost at the top of our list at number 2. Meliconi portaombrelli lusso lamiera litografata metropolis e anelle antigraffio.Circ. Parigi, Londra, New York, con l'aspetto di questo portaombre ombrello puoi fare un viaggio autentico in tutto il mondo. È realizzato in plastica e ha anche un fondo rimovibile facendo queste operazioni di pulizia sono ottimizzate e l'acqua che si risolve con ombrelli gocciolanti può essere facilmente rimossa. La sua struttura è molto stabile sia con che senza ombrelli e ha una dimensione di 50 x 24 x 24 cm. Il peso è di 1,2 kg. E infine il numero 1 della nostra lista. Song Mix porta ombrelli in metallo. Con il suo stile moderno e dritto, si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di stile di arredamento. È realizzato in metallo ed è anche verniciato a polvere, garantendo così una sicurezza ottimale della ruggine. Il fascio include un vassoio di plastica a goccia per accumulare cali d'acqua e anche fissare il pavimento. Grazie ai due ganci forniti è possibile appendere gli ombrelli pieghevoli. Determina 15,5 x 15,5 x 49 cm e valuta 1,6 kg per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale. Iscriviti al nostro canale.